Cari amici del canale, questo video è un progetto sperimentale che però non consiglio di fare. Perché? Perché si tratta di trasportare corrente attraverso le nostre batterie litio-ferrofosfato da un posto all'altro. Ebbene, dato che dobbiamo trasportare questa corrente in macchina, sono condizioni che a fronte di incidenti, a fronte di problematiche varie, potrebbe causare danni all'integrità eccetera. Ecco perché questo video lo sto facendo perché tantissimi di voi che abitano in condominio mi hanno chiesto Gianni, come posso fare per avere corrente a casa mia? Ebbene, il trasporto della corrente è una cosa fattibile, piacevole, lo vedremo adesso con questo video culturale, però non consiglio di realizzarlo proprio per la pericolosità menzionata prima. Ragazzi, di cosa si tratta? La macchinina mia, la conoscete ormai, l'avete vista sul canale, ha una batteria da 15 kWh. Ebbene, io in un campo fotovoltaico attacco la macchinina, la carico, arrivo nel mio laboratorio e scarico l'energia all'interno di esso. Ebbene, in questo modo io ho il mio laboratorio gas free. Ma a motivo della vicinanza, a motivo della fattibilità, a motivo delle mie conoscenze tecniche, faccio questo e non è una cosa che consiglio per tutti. Quindi, se dovete trasportare della corrente, adesso vi insegnerò come si fa, perché magari avete delle condizioni vicine, ad esempio abitate in un condominio, ma siete in un terreno, abitate in una villetta, ma è talmente blindata di cancelli e recinti che non avete possibilità, ma lì a 500 metri avete un terreno. Ebbene, come fate a trasportare questa corrente? Perché 500 metri di cavi, e voi sapete, molti di voi mi hanno detto, Gianni, fino a quando posso allungare i cavi? 20 metri? 30 metri? È già tantissimo, ragazzi. Poi salgono le dimensioni di questi cavi. Ebbene, andate lì con la vostra macchinina, caricate la batteria e vi portate la corrente di qua, scaricandola all'interno della vostra abitazione. Gli strumenti sono molto semplici, dovete avere innanzitutto un pacco batterie nel mezzo che trasporterà la corrente, e io ce l'ho sulla macchinina, sulla mia Smart Lab. Poi dovete avere un altro pacco batterie, o due, o tre, o quattro, come nel mio caso, quattro pacchi batterie per un totale di 60 kWh della Mani. Ebbene, questa è la mia riserva che ho in laboratorio. Quando ho caricato là dove ho il fotovoltaico, torno qui e trasferisco la corrente nel laboratorio. Come si fa? Ebbene, ci sono tanti metodi. Io ho cercato di usare, come al solito, quello più semplice, quello più sicuro, quello più economico. Questo è il nostro alimentatore stabilizzato che ben conoscete, ed è oramai sul canale un leader, perché, ragazzi, funziona veramente bene. Ci sono tante potenze. Io ho scelto a quella più alta e ne ho presi due e un terzo sta arrivando. Perché ne ho presi diversi? Perché quello di serie che dà l'azienda è 58 volte, sapete che è tantissimo, ok? Anche se i BMS e i Saplos, soprattutto, hanno dei limiti di carica, quindi arrestano quando la tensione arriva a un certo punto. Poi, oltre al 58, ho preso il 54, proprio per caricare poco le batterie. Fino a 54 volte, siamo al 90% circa. Ebbene, quando arriva lì si ferma. E va benissimo quando devo caricare la macchinina solo per viaggiare. E poi ho preso il 55. Ebbene, col 55 la carica è completa, siamo circa al 100%. Abbiamo buttato dentro tutta la corrente fotovoltaica nelle ore, ovviamente, della giornata. E, dopodiché, viaggio qua vicino, arrivo, scarico la corrente. Ripeto, è una cosa che non consiglio. Me l'avete chiesto in migliaia, vi do la cultura di questa cosa qua, ma mi raccomando, solo sui terreni vicini delle vostre proprietà e quant'altro. Non andate a fare questo sulle vostre macchine per trasportarvi la corrente al mare, perché un viaggio con 110 kg di batteria all'interferrofosfato non si fa. Ok? Questo ci tengo veramente a dirvelo. Lo sapete su questo canale, la sicurezza, in primis. Ora, questa è una presa asciuco, perché questo alimentatore è alimentato dalla 230. E questa è una presa Anderson, perché dovete attaccare questa direttamente alla 48V della batteria, quindi maschio e femmina di qua e di là. A questo punto, quando io attacco questa, trasferirò la corrente. Da dove la prendo? Dalla macchinina dove c'è una batteria a 48V? Ebbene, è ovvio che sulla macchinina bisogna installare un inverter. Io ho installato un inverter ibrido da 5.5 kW di potenza massima. Ebbene, mi esce la 220 e con questi 2.2 kW trasferisco la corrente. Ora ne posso mettere due. Arrivo a 4.4, cioè 4.4 kW di potenza. Nel giro di tre ore io ho trasferito tutta la corrente all'interno della batteria. Ma la batteria è 60 kWh? Ora sì, un giorno, due, tre, finito, caricato e mi dura poi veramente per tanti, tanti, tanti giorni. Perché un laboratorio non ha consumi esagerati come possa essere una casa. Ebbene, a questo punto, ragazzi, è molto semplice. Questo è un video breve che vuole spiegare a tutti coloro che me l'han chiesto come si fa a livello culturale. La cosa importante è rispettare sempre le connessioni, le crimpature, fare tutti i lavori a regola d'arte in modo che non ci siano sui riscaldamenti. Ragazzi, questo è 2.2 kW, cioè è tanta roba. Quindi quando trasferisce scaldano. Possiamo appoggiare questo là dove potrebbe esserci plastica o le tende, eccetera. Quindi abbiamo le solite accortezze in modo da fare le cose fatte bene. È molto bello, molto pratico. Se abbiamo un campo, abbiamo lì la nostra casa e nel nostro campo, dove abbiamo magari le galline e gli animali che dista 500 metri, un chilometro, andare a prenderci la corrente e trasferircela di qua è una cosa sicuramente fattibile. Chiaramente alla fattibilità bisogna aggiungere la sicurezza, quindi la batteria non va buttata nel cofano. Magari io o una station wagon non possiamo poggiare la batteria lì e con le frenate e le curve questa si muove. Quindi deve essere fissata e bene. Allora non è vietato trasportarsi una batteria, però a fronte di un incidente quello che è permesso diventerebbe poi una catastrofe, perché immaginiamo che qualcuno ci venga addosso e la batteria comincia ad andare in corto, è vero, ci sono i fusibili, non brucia, però è un componente molto importante, molto potente. Quindi è importante che sappiate queste cose a livello culturale, ma che non le facciate per alimentare cose lontanze, o la casa al mare, in vacanza, in baita. Vi ricordo anche che la corrente non può essere venduta, perché è solo lo Stato che autorizza le aziende che hanno partecipato alle gare d'appalto a vendere corrente, quindi non potete creare corrente nelle vostre batterie e poi andare a vendere, ma mi raccomando, sto dicendo cose che dovrebbero essere scontate e mi raccomando che non avvengano, perché questo è illegale. Ragazzi, questo è un video molto corto, molto chiaro, abbiamo visto anche qualche immagine, abbiamo visto questo che è un componente essenziale per i nostri impianti, io adesso col prossimo ne ho tre, il 54 volte, il 55 e il 58,4, che è quello di serie. Ragazzi, spero che questo video abbia soddisfatto un po' la vostra curiosità, visto che questa domanda ve l'avete fatta in tantissimi, cioè come posso alimentare il mio condominio? Ebbene, se vicino a voi c'è un campo, avete un terreno, avete un garage dislocato e avete possibilità di posizionare i pannelli, bene, questa corrente può essere inserita nelle batterie e trasportata là, dove volete voi. Ragazzi, è stato un piacere anche questo video, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo. Buona serata. Grazie. 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 Grazie.